Wabalabadab dab dab bentornati sono Mamamazzo bentornati nella playlist dedicata alla Marvel in particolar modo ultimamente alla serie tv Vandavision di cui oggi abbiamo appena visto l'ultimo episodio se non l'avete ancora visto sappiate che la mia sarà una reazione a caldo tutta spoiler quindi se non volete spoiler mi raccomando stoppate e ci vediamo quando avete visto l'episodio prima di cominciare vi ricordo sempre di iscrivervi al mio canale di mettere un bel mi piace a questo video e anche a tutti gli altri che vi frega di condividere il video con tutte le persone che sanno usare la magia e di commentare qui sotto con quello che viene parso sia dell'episodio e sia della serie tv in generale nel frattempo se volete potete iscrivervi anche agli altri miei social Wandavision ultimo episodio e facciamo anche un riassunto magari di tutta la serie devo dire che la serie tv è una spanna sopra la serie tv media che può essere per esempio l'altro giorno ho parlato delle serie tv della CW qui siamo a tutto un altro livello siamo a un livello cinematografico ovviamente è una serie diversa non è una serie fatta per riempire un palinsesto diciamo di 24 settimane per riempire appunto un palinsesto televisivo è fatta unicamente per i fan unicamente per disney plus sono stati nove episodi mirati un'unica grande trama in cui i registi hanno anche giocato parecchio con appunto con la regia con la fotografia con le inquadrature è stato un unico grosso film anche qualitativamente spalmato su una serie tv scelta tra l'altro azzeccatissima visto che data la pandemia si sta utilizzando un sacco di servizio streaming dicevo il livello è altissimo abbiamo praticamente visto un film dedicato a vanda maximov e al modo che ha avuto lei per elaborare il lutto per la morte sia di visione ma anche un po della sua famiglia in quest'ultima puntata devo dire rispetto alle prime non ci sono stati grossi colpi di scena se dovessi trovare una pecca di questo ultimo episodio devo dire che c'è stato lo scontro con il villain con il boss finale però a parte questo tutte le trame si sono risolte nel modo più semplice possibile partiamo con il personaggio di agatha arknes l'episodio comincia esattamente dove era finito l'altra volta con agatha che tiene in ostaggio i due figli di di vanda che l'ha portata fuori dove appunto si vanda può utilizzare i suoi poteri ma sappiamo scopriamo che l'ha voluto apposta in modo che quando vanda utilizza i poteri contro agatha agatha usa il potere che abbiamo visto già nella settimana scorsa nella scorsa puntata di assorbire i poteri perché fondamentalmente lo avevamo già visto lo avevamo già capito nella scorsa puntata l'obiettivo di agatha arknes è quello di assorbire il potere della strega scarlatta per diventare lei a detenere questo potere a saperlo utilizzare dal momento che come ha detto lei stessa vanda non sa utilizzare la magia non è stata istruita non la conosce la sua magia è basata sul caos mentre agatha arknes è una vera strega che conosce gli incantesimi e potrebbe utilizzare al meglio o al peggio a seconda dei punti di vista la magia della strega scarlatta quindi vediamo fondamentalmente in tutto l'episodio lo scontro finale tra agatha e vanda a quanto pare è agatha il villain della della serie ha fatto tutto vanda per quanto riguarda il la creazione di questo mondo semplicemente l'ha fatto quasi a livello inconscio quindi molte delle cose a livello conscio manco se le ricordava quindi non c'è stato il famoso mefisto che abbiamo decantato per per otto puntate l'unica eminenza grigia dietro tutto questo è stata semplicemente agatha arknes però non c'è nessuno dietro agatha quindi ci siamo scordiamoci mefisto e tutte le le varie teorie sulla sua sulla sua presenza per quanto riguarda questa serie tv poi magari apparirà in altre serie tv poi c'è stato il personaggio che abbiamo visto nel finale dell'episodio scorso che è visione bianco che è fondamentalmente il corpo del vero visione riportato in funzionamento dalla sword per essere utilizzato come robot contro vanda contro questo mondo anche qua francamente speravo in qualcosa di meglio nel senso che abbiamo visto questo personaggio per semplicemente per tenere a bada il personaggio di visione il visione creato dalla mente di vanda in questo scontro tra personaggi che sono alla pari nei poteri che hanno quindi è uno scontro totalmente alla pari vediamo lo scontro prima fisico e nel finale uno scontro quasi filosofico tra tra i due visione che è stata la parte di questa trama che mi è piaciuta di più perché comunque abbiamo visto il vero visione i veri ragionamenti che visione faceva già dai tempi di age of ultron dico peccato perché è stato proprio il classico scamotage di far esplodere la mente di un robot facendogli pensare a un paradosso quindi fondamentalmente visione si è sbarazzato del visione bianco così quando io speravo che il corpo di visione bianco venisse utilizzato per trascrivere il visione che aveva generato vanda in modo che anche visione si potesse salvare dalla dalla scomparsa di west view invece non è successo semplicemente è arrivato visione bianco si è scontrato e se n'è andato peccato uno spreco di questo personaggio che poteva essere utilizzato in questo modo un altro personaggio che abbiamo visto pochissimo nonostante abbia avuto un ruolo fondamentale un paio di puntate fa il personaggio di monica rambo che era stato appunto segregato da questo falso pietro da questo falso quicksilver nel suo scantinato e abbiamo visto pochissimo l'utilizzo dei poteri di monica rambo anche quando finalmente si libera da questo scantinato per andare ad aiutare i buoni della situazione vediamo semplicemente che assorbe un paio di proiettili ma la cosa finisce lì si poteva vedere uno scontro molto più epico ma fondamentalmente non hanno fatto che creare un personaggio per poi utilizzarlo in futuro come abbiamo visto nella scena nella prima scena post credit in cui appunto monica rambo viene diciamo reclutata da una da una scroll da parte di un amico di sua madre non si sa se questo amico che sta lassù è il nick fury che abbiamo visto nel finale di spider man far from home che è in un in un elevivolo nello spazio oppure si riferisce alla niente popo di meno che a carol danvers quindi non si sa se l'amico è nick fury oppure captain marvel può essere entrambe le cose può essere captain marvel perché monica rambo ha i poteri ed è colei che sarà la seconda captain marvel quindi potremmo vederla probabilmente in captain marvel 2 mentre appunto parlando del falso pietro il quicksilver che è stato creato diciamo da agatha arkness per soggiogare vanda è stata semplicemente una mossa fanservice per per strizzarci l'occhio al fatto che questo attore ha interpretato lo stesso personaggio nel mondo degli x-men ma non è altro che un abitante di westview che è stato appunto soggiogato da agatha non si chiama neanche pietro ha un nome americanissimo anche i poteri a quanto pare gli sono stati dati da agatha quindi è semplicemente stata l'ennesima strizzata d'occhio a un multiverso che però non abbiamo ancora visto quindi scordatevi il multiverso scordatevi qualcosa di enorme semplicemente è stato solo un cameo un omaggio al quicksilver della saga degli x-men né più né meno purtroppo personaggio di darsi che appunto quando entrata nella nell'esa nell'esagono nella bolla sembrava che facesse tutto lei invece non ha fatto altro che chiacchierare un po con visione in questo episodio si è vista solo per una scena gag in cui investe il nemico di turno meno male che quantomeno l'abbiano l'hanno fatta vedere perché se no davvero sarebbe stato l'ennesimo personaggio di cui si sarebbero dimenticati quindi almeno così l'abbiamo vista il per il l'episodio è incentrato tutto appunto sullo scontro finale tra vanda e agata quindi non posso dire che non mi sia piaciuta l'azione è un episodio principalmente d'azione in cui entrambe le streghe mostrano il meglio dei loro poteri finalmente vediamo vanda utilizzare i poteri che aveva utilizzato in age of ultron ovvero giocare anche con la mente dando allucinazioni al proprio nemico e quindi vediamo un attimino questo lato del suo potere per per riuscire a soggiogare agata mi piace molto come impari in fretta per esempio la cosa delle rune che nell'episodio scorso agata arknet ha spiegato che solo la strega che crea le rune può usare gli incantesimi in un determinato luogo quindi vanda prende questa informazione e la la gira contro agata quindi questo questa velocità di apprendimento di vanda mi è piaciuta molto e mi piace anche che in questo modo riesca appunto a soggiogare agata e finalmente vediamo la scarlet witch finalmente vediamo anche esteticamente vanda maximov che indossa il costume che ha nei fumetti finalmente vediamo il suo diciamo cerchietto la sua tiara vediamo il le spalle scoperte questo mantellino esattamente come nel fumetto quindi dal punto di vista visivo finalmente abbiamo visto insieme tra l'altro visione e vanda perfetti sono stato davvero contento anche nel finale quando vediamo che semplicemente vanda può indossare diciamo il suo costume semplicemente cambiando la realtà ci sta voglio dire ha cambiato una città intera figuriamoci se non può trasformarsi in scarlet witch a piacimento mi è dispiaciuto appunto che visione e i figli di vanda e visione come temevo sono spariti perché appunto vanda ha rinunciato al proprio incantesimo e appunto io speravo che sapevo che i figli sarebbero stati annullati ma speravo che almeno visione in qualche modo tipo finendo nel corpo del visione reale del visione bianco si salvasse e invece no hanno voluto darci la trama più semplice che anche quella più spezza a cuore perché appunto vediamo vanda che finalmente accetta il dolore che ha subito e è pronta ad andare oltre a dire addio al visione che ha perso in infinity war quindi abbiamo fondamentalmente visto tutte le fasi del dolore di vanda in questa serie tv nell'epilogo finale scopriamo che vanda riesce a imprigionare agatha nel suo personaggio della vicina noiosa senza appunto però metterla nella cupola di westview quindi abiterà semplicemente nella vera cittadina di westview e sappiamo che è imprigionata affinché non servirà di nuovo alla marvel tirar fuori questo personaggio ragazzi ci sono due scene post credit appunto in una c'è monica rambo che viene reclutata da una scroll nello spazio probabilmente da nick fury da captain marvel nella c'è anche una seconda scena finale dopo i titoli di coda io speravo che vanda andasse a studiare magia da doctor strange però probabilmente non era disponibile benedith camberbatch o probabilmente ci stanno tenendo in serbo qualcosa per il film doctor strange and the multiverse of madness quindi non ce l'hanno fatto vedere adesso semplicemente vediamo vanda che studia da sola in una casetta isolata da qualche parte in america vediamo che mentre vanda sta vivendo una vita semplice in realtà c'è una parte di vanda completamente nel ruolo di scarlet twitch che sta imparando questo libro maledetto di cui hanno parlato di cui ha parlato agatha arknes fondamentalmente sta studiando tutti gli incantesimi quindi diventerà tutti gli effetti la strega scarlata e posso solo immaginare quanto possa essere pericolosa una vanda che al pieno controllo dei suoi poteri sembra quasi che stia studiando per riportare in vita i suoi figli e di conseguenza anche visione perché mentre sta studiando tutte queste rune tutte questi incantesimi sente la voce dei figli che le gridano mamma aiuto però è il mamma aiuto che abbiamo sentito nel terzo atto del combattimento quindi probabilmente è un ricordo non credo che stia sentendo i figli da qualche parte nell'etere però non si sa mai può essere che li stia ancora sentendo stia ancora sentendo le loro entità e sta trovando il modo sta studiando le magie adatte per riportare tutti in vita fatemi sapere voi cosa ne pensate se questa teoria secondo voi è plausibile o se solo fuffa scrivetemelo qua sotto nei commenti io come sempre vi ringrazio di avermi seguito fino a qui anche per gli episodi scorsi e come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e ci vediamo nel prossimo video